ennesima rassegna carattere gastronomico alodi non passa settimana che per le vie del centro non si abbia l'opportunità di mangiare qualcosa così ecco la notte bianca del gusto con stand bancarelle di ogni ben di dio la rassegna che proseguirà fino a domenica sera è stata tenuta battesimo dagli organizzatori in piazza castello è stata l'occasione per assegnare ancora riconoscimenti ad artigiani imprenditori e responsabili di associazioni locali premiati con una targa ricordo angelo pisati della ceramica vecchia lodi giorgio franchi attivo nel settore dei fermenti lattici pietro parenti tra gli artefici del salamino d'oro di cavenago dadda luigi schiavini presidente della proloco di lodi e silvio d'agostini titolare di una nota pasticceria della città più che di di riconoscimenti però avremmo bisogno di clienti ha osservato uno dei premiati contenuti passati riso 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 riso